eccomi qua non ci crederai ho già fatto una diretta per almeno cinque minuti da un'altra parte è venuto fuori che era la diretta sbagliata era molto diretta ma purtroppo sbagliata perché era sulla pagina che ultimamente si è creato dove tutti si uniscono e dove in qualche maniera poi era previsto che io facessi questo mio intervento che in qualche maniera dicessi qualcosa insomma e niente e ciao sono a casa domani parto domani c'è un bel grande seminario che mi aspetta cibo sessualità e carattere a te cosa dice cibo b sessualità doppio b e carattere vabbè tante cose niente no e in qualche maniera qui si aggiungono un sacco di persone cose io spingo qui ragazzi sembra facile momenti in cui in un momento storico in cui ti metti davanti il televisore vedi la meraviglia tecnica con tutto quello che succede in un sanremo e non so se vi potete immaginare quante cose possono andare storte in una situazione così e qui stiamo litigando con il live di facebook che mi sembra che dovrebbe essere più facile che qualunque altra cosa non so non so cosa dirvi in questa serata importante siamo prima di un momento fondamentale per l'italia come quello della serata delle canzoni già seconda edizione già secondo giorno di sanremo non so tu lo guardi io sono viennese io sarei avrei anche un bonus volendo tu forse no tu da bravo italiano nazionalista che in qualche maniera sarebbe anche giusto che tu ti fassi per tutta questa cultura folcloristica insomma ci sei ci sarai o no che la dica michelle non ci può essere come forse ieri vi ho dato la speranza era già evidente non hai bisogno di essere un mago per questo ma è carino incontrarci mezz'ora prima che il massimo della folklore che l'italia conosce passa sui schermi con tutta la sua grandezza con tutta la sua regia incredibile con le sue voci con i suoi cantanti diretto da una svizzera principessa del percorso non ci interessa particolarmente però non mi stai guardando per avere opinioni su quello che potrebbe essere la mia relazione con sanremo e ne hai bisogno di sapere qualcosa sulla tua io parlo di vita perché quello che so fare meglio ovviamente nella mia vita qualcosa me lo ritrovo anche se tu sai benissimo che i calzolaie hanno sempre le scarpe con i buchi e così anche io nella mia vita trovo tante cose che potrebbero girare diversamente meglio non tanto oggi in cui ho raggiunto una consapevolezza abbastanza dignitosa quindi me lo posso districare molte situazioni che mi arrivano che magari ancora dieci figuriamoci 20 30 anni fa non avrei saputo fare proprio perché è l'evoluzione che lo fa essere ogni giorno in trincea con tante persone che vogliono in verità nient'altro che imparare questo guarda qui ci sono un sacco di cose che si possono schiacciare però non so che cosa succede quando si schiaccia lo sai fare bellissimo carino ciao michelle ciao vale beh la vita per me e per te non sarà molto diverso è un insieme di ciò che succede oggi ma soprattutto di qualcosa che ti porti dietro mi sono messo anche il zainetto mio oggi pregiato ma altre volte non lo è perché quello che anche il piccolo micchi si porta dietro per quanto possa essere bravo oggi bravo a districarsi nelle varie situazioni della vita se non avessero i radici molto lontano i radici tuoi dove sono proviene dalla famiglia esattamente dalla famiglia dalla tua infanzia dalla tua gioventù dalle tue scelte che hai fatto strada facendo scelte di lavoro scelte personali scelte di voler intraprendere intraprendere certe strade altre no scelte di partner scelte di partner sì sì tutta questa cosa qui noi lo chiamiamo responsabilità empiriche quello che tu oggi ti trovi ad affrontare sì responsabilità empiriche cosa mi scrive maria paola ciao michelle a volte va bene anche un po di leggerezza ma certo ma siamo leggeri aspetta mezz'ora che saremo super leggeri davanti alla televisione e vedrai che leggerezza avrai eh qui scrivete tanti ragazzi non riescono anche starci dietro passa proprio una scritta dietro l'altro e forse è anche il caso che non lo faccia perché poi sono troppo concentrato nel voler capire che cosa mi domandate o scrivete invece di quello che vorrei lasciarvi di questi pochi minuti che ci vediamo sì quello che viene da lontano quella roba che trovi nel tuo zainetto che è da affrontare perché sono i binari i binari della tua esistenza di ciò che hai imparato della vita di tutto quello che ti porti dietro e poi come la maria paola vogliamo essere leggeri oggi e io sono la persona più felice del mondo se tu riesci a farlo hai in me un grande alleato nella tua leggerezza il punto è che molti mi dicono che non è così facile perché quella roba qui pesa da matti e tira giù e giù vedo molte persone già andare su quattro zampe e la cosa il fenomeno che ho visto ripetutamente migliaia di volte succedere in questi anni più le persone sentono questo come peso più cercano di essere leggeri si chiama legge della compensazione empirica mai sentito non perché sia sbagliato no tutt'altro ma perché se tu tutti i giorni senti qualcosa che ti tiri giù perché la vita ti ha dato questi pesi e le situazioni sono quelle quando tu non sai come fare diversamente tu hai bisogno di prendere che la vita oggi ti dà vero? allora quando ti puoi sedere un attimo quando non sei proprio preso o schiacciato da tutto questo cosa vuoi? affrontare quella roba là anche nel tuo tempo libero nel momento in cui non ti pesa o non lo senti come tale no in quel momento vorresti leggerezza dai non se ne può più e sai il buffo è quando sento questo so che la persona è molto sofferente perché se non fosse così la leggerezza lo senti in ogni situazione in ogni momento strada facendo non hai bisogno ricordarti che lo vorresti essere non hai bisogno in ogni momento dire no dai adesso è il momento per respirare finalmente un po' perché qualcuno dentro di te sa già che fra cinque minuti tre minuti due ore la cosa sarà diversamente domani mattina il più tardi la cosa sarà diversamente invece posso dirtelo la mia idea è diversa la mia idea è che tu in questa leggerezza puoi fare diversamente esatto mi metto comodo che tu ogni giorno della tua vita potresti sentire qualcosa che non percepisci come pesante fastidioso quant'altro che tu ogni giorno della tua vita non vogliamo essere ottopisti non vogliamo andare oltre quello che magari è possibile ma comunque tu possa sentire un non peso almeno un non peso è un po' viennese forse ma capisci cosa vuole dire non peso se non è la super leggerezza almeno un non peso sì, ci sono situazioni più ardua situazioni in cui tu hai bisogno di entrare in qualcosa che solitamente viene da lontano e che non è piacevole ma per il resto ogni giorno dalla mattina alla sera sentire sentire che la vita fluisce in qualche maniera vuol dire che tu stai bene in quello che fai con le persone che hai intorno che tu hai spazio per te che tu dormi bene riposi bene ti nutri in maniera che tu puoi essere in grado e dire wow che bello ho mangiato e sto mangiando in questi giorni in queste settimane in questi mesi con tanto gusto ossia fammi aggiungere quella parola con tanto amore cosa vuol dire mangiare con amore cose che sono preparate al momento che hanno un po' di attenzione da te o da dove vengono anche il ristorante va bene qualche volta sì forse forse soltanto qualche volta però cosa vuol dire per te amarti no 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 troppo troppo va bene ho capito troppe parole volerti bene meglio allora cosa vuol dire per te volerti bene sì so bene che ho qui una piccola infiammazione ma penso che sta passando mangiare non c'entra e il dormire non c'entra no c'entra c'entra tutto alla fine c'è un equilibrio fra tutte le parti c'è trama ordita che creano il tessuto della tua vita è quello che parte lontano arriva vicino è quello che in qualche maniera forse tu credi che sia soltanto psicologico alla fine anche biologico quindi stare bene dentro quel corpo come sta quel corpo una gran tematica non è roba da cinque minuti pre Sanremo lo so bene ma l'idea di stare bene nella tua vita è qualcosa che mi interessa perché mi chiama in causa perché io faccio questa cosa come come missione? no come lavoro? no come qualcosa in cui mi sento utile sì mi sento utile ho risposte non risposte con mille dollari sai la vita non mi dà ogni situazione è diversa ogni caso a sé stante ogni zaino ha il suo peso la sua qualità la sua entità più da un lato meno dall'altro ogni persona ha imparato a viaggiare diversamente nella propria vita con questa cosa e quindi affrontare una nuova persona è come fare un nuovo viaggio un viaggio insieme questa volta ma è quello che faccio e quello che faccio è quello che mi fa sentire bene mi fa sentire quella parola che vi ho detto prima utile è una bella cosa essere utile sentirsi tale sentire che grazie a quello che tu fai in molti riescono a trarre qualche beneficio vantaggio beh tu capisci che è una mia soddisfazione o un mio appagamento profondo se tu dopo un po' che viagiamo insieme mano in mano stai meglio? è egoistico lo so ma è quello che faccio è quello che mi dicono che so fare ossia lo specchio empirico rispecchiando e riportando di cose di te che magari tu da solo non vedi e si comincia dalla propria vita si comincia da là da tante cose che per te sono scontate ma forse a fine empirici non lo sono ecco perché domani mattina parto per cibo sessualità carattere grande nome tu hai bisogno di approfondire il tuo discorso col cibo? no è tutto più che in ordine vero? con la sessualità? no ma quando mai? e col carattere? forse hai un caratterino dici? e a cosa serve approfondire? mi chiedi sono d'accordo con te meglio Sanremo stasera? fra mezz'ora? io penso che questo piccolo intervento mi concedete io penso che non mi prendete come noioso se insisto sull'argomento perché tre decenni fa ho deciso che mi appassiona avvicinarmi ogni giorno un millimetro in più a quella meta che si chiama amore del sé qualcuno lo chiama volersi bene più o meno sono le stesse cose sì lo so molte volte sembra che ci riesci altre volte invece sembra che fai tanti passi indietro e sai di che cosa mi sono accorto che ma non lo dire nessuno che in molti credono che sanno come avvicinarsi a quella meta ma poi invece hanno bisogno di rendersi conto che non è così che non funzionava così che forse erano scorciatoio e con la vita è difficile avere scorciatoi ma sì forse hai ragione insisto già un po' troppo in questa piccola situazione che ci siamo creati forse sicuramente non hai ancora cenato almeno io non ce l'ho Linda mi sta aspettando di là domani mattina parto presto e stasera come potrebbe essere diversamente c'è Sanremo alla prossima è stato un grande piacere ciao ciao